Come si chiama? Sui gas Ah ho capito, gas perfetti No gas nobili Vabbè gas, vabbè si frasso No, P per V è uguale N per costante Si, quello Aspetta un attimo, chiamo Amis Sento cosa vuole Però magari rispondesse Amis Mamma mia Ma che pane, non mi ha cambiato il nome Quanto è bella la Maria Negri Non so, fra, quanto va schifo il maschio? Troppo Non so Ovviamente, spanna, andiamo qua Movimento, fra Che domande? YouTube, come D Mezzo ma perché è un altro account questo qua Ragazzi non è skin changer questo, è la vera skin Non è che sia skin changer Sì, ok E con quella menù di oggi, bambina al prete Ok Andiamo Ok Ah, fra, comunque ho 220 punti, ne ne ho Zero Ah, fra, sono tutti bot anche a 220 La mente 216 Tipo te Eh? E? Non ho detto nulla Ah, fra lo so aria al soltroppo con renegade radar ma siamo dopo i privati fra boh vuole renegade radar con aria al soltroppo che bello è pure full access si userei solamente questo fino a adesso oh per un po' si ma non posso mica collegarlo all'altro vero? no fra oh oh poi cercherò per un po' qualcuno che lo scambia perché cazzo mi so per una full o un'altra renegade ma fra se vuoi se me la dai a mettere trovo io una di coutuber no no è tranquillo fra ora è che trovo le coutuberi mi è servito qualche minuto per trovare la coutuber fra tu non mi devi sfidare oh vabbè ma le resta troppo non ce l'hanno qualcuno ma è che la schifo è quello del problema no fra guarda che la schifo è più rara eh furidi però non ce l'ha nessuno sta schifo eh no perché faccio la cosi schifo che non l'ha comprata nessuno però se ci pensi fra si trovano più il coutuberi renegade rider che sta schifo lo schifo non si trova è più rara anche della vabbè la decona è la più rara di tutte qual è che sta schifo vi sa uno o due volte penso tre io l'ho trovata ancora due volte perché vizio ma guardate l'ho cambiato il titolo l'ho cambiato il titolo pizza devo comprare un pizzone decente dove cazzo stanno le tasse non serve a shield a shield una ragazza da preparare il giorno in pubblico era un po' increativa ma veramente sono ancora bloccato con le mani non puoi dire se mi vende l'account puoi dire se mi vende l'account eh hai scritto io youtube eh nooo nooo fra ho scritto male youtube non mi sono accorto che io youtube fra ma tu ti raccorti giuro regano ma no non mi interessava nemmeno guardare il tuo nome di merda nooo nooo vabbè si si capisce però se il livello mi compra non fa bene vero sto quando io voglio andare a push a far molto cioè non prendo il cazzo io vado verso post grazie ma che ma vi spiego il perchè sto campan qua non mi ha verificato e quindi per cambiarlo non è che ci serve un metodo e quando fai questo metodo non... non vedi le metodo Ok, c'è un terreno Ok, sono full, lo metto benissimo Ma non lo posso anche andare Perché qui lo sai che ci speccano No, non è vero Stavo spettando Sì, mezzan, è shane Beh, comunque c'è che cazzo Poi devo chiederle meglio Vabbè, certo, Fran, giramenti pure Hai una renegate rider furaccio, sboh Dai, Fran, me la vengono, è serio Però l'hai pagata 40 euro, eh, dai Che fatti? Appunto Me la tengo bella che stretta Fra, ti do a spaccante qua più dei soldi Ah, su, che non mi fa schifo Beh, Fran, non pensare a quello Sì, invece Vedilo che la bella vita è con 200 familiari Anche se adesso ragazzi sono un live e li ho bloccate Quindi non sono 200 familiari Non c'è nessuno Eternity ha fatto un rebound Eh, ora Vabbè, non mi ha dito qua Stanno prendendo stai drop qui, quindi io vado Ah, ma c'è uno davanti, ok Ma no, dai Adesso vedi che muori, rido Non mi ha dito, ora Brava, ma dai, non mi dì che muori da loro, eh Arriva No, sei 200 testa, ma non parla Salve, mi chiedo, sto pompa di merda Non fai? Sì, sto schifo, il traffico Dov'è? Ma dov'è? Fra, fissi materiali, che cazzo? Spara Ma che c'era quell'altro qui? Mi sono hit, dai Tu non mi distrae addosso, bro E la prendersi al giorno, boh, mi sei troppo addosso Vuoi prendermi la cosa Dov'è, sai? Lascio, nel sopra Ma stai scherzando? Ok La fai Io ne vo' stai adesci lì C'è il materiale Vabbè, vabbè Vabbè, fra, ho avuto questo, non è che Non ho capito Ma non ce la faccio, fra, sai Ma prendi il loot Fra, non mi devi romperle palbo Ma lo devi prendere, tanto io non respuno qua, rincoglionito Vabbè, fra, ma te lo voglio prendere prima che ti fa Vabbè, se me ti faccio morire Ma prendi il loot anche lì sopra Ma non c'è loot lì sopra Ah, non è vero, c'è il loot C'è, non c'è Che coglionino Fra, aspetta, sto laggando Odio andare in live, regà, non dovrei andare Ti giuro No, lo so, ma perché voglio prendermi sto, voglio prendermi sto coso, cosa darà? Vabbè, casomai lo usi e mi vai a arrestare a coso? Vabbè, effettivamente, ragionamento Fra, guarda che mi evita in ritardo Dov'è? E' questo Sotto quella scala Ma dove? Ma c'è una mitraglietta Fra, ma c'è una mitraglietta Ma male, ci sono shieldini Brutto rincoglionito Mamma mia, quanto sta addosso Ma quanto sta addosso Sì, è un mongoloide È bello che mi hanno spiegato Sì, lo so, mezzo, tolgono un botto di FPS Ragazzi, salanno a 100 FPS Mi sembra Infatti ragazzi non voglio, infatti non voglio mai andare in live perché è frame lag Per quanto sembri strano, visto che il primo giocato con 100 FPS dovrei, non l'ha aumentato, però Lo senti un botto a frame ground, ci sei abitato a giocare con 200 FPS Lascio il shieldini, il shieldone Lascio anche o la R o la Thompson Cosa? No, tanto Sì, se vuoi farlo Shieldini, il shieldone, R o Thompson No, è T3 Magari un po' di colpi Ma che stai addosso Mamma mia, quanto sta addosso Dammi anche dei colpi di coso Di cecchino Che figo Che figo, fratto Che farà dog Sì, infatti ragazzi, ma non so perché ero messo queste cose qua delle live Perché se non giù ti volevo fare anch'io Però trovo un po' di CDF Infatti le live della workup Mi esprimerai la workup in duo In solo, scusa Dipende, dipende, le finali forse se mi qualifico Perché... Mi esprimerai piuttosto le qualifiche No, fra, ma che scusami Alla fine se io mi qualifico Vinco comunque dei soldi Quindi che vada male Non è che mi interessa Ma non è... No, non è detto Ma fra, l'ultimo guadagna almeno 50... No, no, stai conto guadagna l'ultimo Che cazzo dici? Fra, è? Il tre millesimo guadagna tipo 20 euro Buttati via Ma stai zitto? Ma te sei stupido Ma qua scusami Ah no, era nel... Vabbè Vabbè, o ci penso Mi spieghi perché le misi non entrano? Bianco, sono entrambi bianchissimi Sì, tanto le live che ho fatto adesso in pubblica sono per divertirmi Non è che mi interessa molto Ma ce l'ho detto, vado solamente a un reato in live perché al momento in cui mi diverte basso Dopo fuori live, tipo esempio con Ravis Se non sono due mi alleno fuori live con lui Basta, l'hai stato tantissimo Non mi interessa però Porco di... Ciao, era A me ti invece Lo follow Vieni con me, prof C'è gente qua sotto, c'è il bianco E va Vabbè, arrivo E' bianchissimo, eh Allora ci aspettiamo, fra Anche l'altra Che sarà Dai, si è bianchissimo anche te, mo' Dai Stai però Penso sia una... Beh, io so che è una battuta Però non dubbi che lo chiede, è una battuta Cosa c'è la di fuori due scildoni Cosa fai la gente? Dio bu oni Buon, guarda che mi spara, guarda che mi spara, guarda, mi spara guarda qui cazzo Perfetto Perfetto dai oh crap però Oddio Perfetto Eh? Eh? Ah si non lo sapevi Ah boh non lo sapevi Vabbè non si muove Vabbè non si muove Si muove su qua boh Quanto devo evitare per Vabbè è scappato Ok cambio Di me della ripieta no Boh mi tolgo in tutti i centri E' inizio ad incazzare te lo giuro eh Ma boh fra io lì ti faccio 23 23 23 47 No è il suo bianchissimo Guarda che adesso devi sciogliere Guarda si 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 deve esplorare Guarda dai ragazzi C'ho le mani utile La pia del giorno Aspettate Dov'è la suga le mani Ah che parlo Poi frame live Guarda Frame live Raga dopo sto facendo la live Oh Sto con la live Vabbè lo dico Ragano C'è boh Mi sembra che devo avere un pc Devo andare Liper spero che tu stia scazzando Mi sembra che ragazzi Io devo un pc Che fa un botto bene E devo andare live Per perdere tutti gli fds E frame black carbo Si Certo 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 Però non mi tusa Lo stavano con l'hermone Certo 2000 in HS Perché fanno che sia fortissimo Sì Che cosa stanno? Incuorso Vabbene Mi da di lerdo Ehi Raga no Ma non mi edita Raga Di reply ��고 Ma non abbiamo encano Neve E' stato molto male, vai Ah, erano quelli sopra? Quei unità i materiali che gli scogli ho finiti? Senti, non ci sono sossi, se vuoi puoi prenderli da lui Sniper, io spero che tu stia scherzando, ti sembra il maschio della renegade Tra come scende tu non ho materiali? Cazzo è tua Trago Raga, da questa parte tolgo la live, non lo posso cazzo Mi schifo Meno male Se me vado in live senza grafica né niente Eh? Raga, c'ho 140 fps, vado a 250 fisici Boh Comunque, stai per il mio server è finito Comunque... Niper spero che ti stia scherzando, perchè se tu pensi che il maschio della renegade sia il signore della ruggine E' preoccupante come cosa Come non era un signore della lucine? Stai scherzando Ma perchè? Cioè tu pensi che il maschio della renegade sia il signore della statura? No! No Che coglione spanna che sei No, lo sa che scherzi, ma il problema è che Sniper ci crede Questa è la cosa per fare Capisci Hai visto, prego Boh Si le sai che magari non ha ragione lui, eh? Cioè ti senti... Ok, raga parliamo di staccato Ma anche la renegade è uscita in season 1 Non è più uscita, insieme alla renegade rider È uscita e secondo voi il metodo della renegade del signore della ruggine Parliamone Ma intanto il bro non voglio far più live Cioè mi si è rotto le palle Vada la Vada a scatto Cioè un PC stra potente vada a scatto Certo Ti sembra che è un altro campo Ma guardate che raga, mi va a scatto Ma lo vedete, boh? Si fr... Cioè tu fai tutto da soli Io intanto intrattengo la live per quanto mi prega e basta Si Si tante Cioè frate, incontrando la gente del livello 1 Cioè... Se mi dai colpi cecchino però gli apprezzo Cosa? Se vuoi? Se mi dai colpi cecchino gli apprezzo Se vieni qua c'è di tutto Gli apprezzo sti qua Farà guarda quelli! Guarda quelli! Guarda quelli! Siamo in 7, si sono boxati! Guarda quello! Cioè ma ha seriamente riftato Si tra Aspetta Aspetta Io ti giuro che se lo push e ha un altro rift Mi sento male A un mi sparare in volo per questo bambino di merda Cioè questo frasce è boxato Qua cosa sembra? Sì Si Sì 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 ti spiega a questa ragazza che la skin non fa il player no ma Diego ma mica l'ho avuto a sta campo non mi interessa proprio è che volevo fare una live dove faccio vedere la skin cioè la skin ma infelizzo però quando va del live io sono di creativa per non crendargare perché ragazzi c'è 120 fps 4 2 2 2 2 2 3 2 3 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 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 17 massimo, non posso far meglio. Se vuoi fare spanna, facciamo prima la mia isola o vogliamo andare nella tua? Nella mia, fra. Guarda quanto è bella. Guarda quanto è bella la mia, guarda quanto è bella la mia. Sto a cagare. Lo so, fra. Ah, ma cosa c'è nella mia isola, fra? A parte i scherzi. Eh? Ma non c'è niente nella mia isola, andiamo nella tua. Nella mia. Vabbè, andiamo nella mia, facciamola. No, tra la la faccio io, tra la la faccio io. Vabbè, andiamo nella tua. No, non fermi il cazzo. Allora, allora. Armi, fammi vedere, fammi vedere. Che armi vuoi? Aroro, pompa aroro, Thompson dov'è? Thompson e pompa nuova. Basta. Raga, non c'è il coso PC. E' una 2060 come scheda video, un i7-87k come processore, un 16GB di RAM, un terabyte di SSD, 650 volte di alimentatore. Cosa manca ancora del PC insane? Ah, tu hai dato 370 PD3 come scheda madre. Eh, mi pare che c'è tutto. Mmm, mi pare di aver dato tutto. Eh, Staline lo sono procurato. Fra, ma spinne il razzo! Guarda, è rarissimo! Cosa? È rarissimo sto balletto, Fra. È un amico, anche. Ma ha sciopato per sbaglio. E Fra ha comprato una cosa stra rara, però. Grazie, mi immagino. Grazie, mi pare che c'è tutto. Allora, fammi vedere. Allora, squadra qualsiasi, cosa qualsiasi. Di 90 la partita, no. Di 90 la partita, no. E poi poi per ora facciamo così, va, sti cazzi. Eh, sì, per farmi vedere la mia isola. Eh, ehm... Devo stare sui. Eh, sto togliando... Se ho togliere deploy, eh, mi raccomando di obonio. Eh, sto guardando. Eh, sto guardando. Va bene, va bene, ma quindi... Odiego io non ne... Cioè io non ho come dite voi tanti accanto. Nel senso io io riscardo, ma perché quando ne voglio uno me lo procuro, ma... Ovviamente se ne prendo uno devo dare qualcosa in cambio. E infatti ho fatto sta cosa, cioè... Eh, non penso di trovartene uno, cioè ci provo, però dovresti pagarlo. Non ne trovo, grazie, purtroppo. Eh, è stato in, eh, non si dice. Non so se vuoi davanti avesse anche la Ragon. Guarda. Vai. Cos'è scatto con lo giocatore? Vabbè, io me lo so. Scatto con lo giocatore? Ok. Vabbè, io lo lascio. Non si sa mai. Michael, mi dovevi dare una... Iconic da settimane. Settimane. Non me l'hai mai dato. Alla fine, cioè... guarda dal tuo compagno. Guarda con la voce tutto. Guarda con la voce tutto. Ah, no, non ho messo che non si fanno danni a cose. Asciuto troppo. Come cosa si fa? Asciuto, fra? Asciuto. 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 Sarà 20? 22? Vai. Regà, ma sta laggando. Guardate, boh. Non l'ho lasciato. Tra, cosa facciamo? Escolta, ma! Escolta. Achò, no, non ho mai dato. Mielso di fugitore ha affidato il caccio e il ritmo con il caccio. Con l'escolta? C'è l'intensa? Escolta. 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 Dico una parola che dovresti capire, ma Chias? Si Ok Comunque era Matis Eh? Comunque era Matis Matis era? Si, non era Matias No, mi sembrava questo Matias Comunque quel ticone fa un sacco di rumore e fa pure schifo Eh, che palle Devo aspettare 3 giorni per imparare Eh? Eh, fra L'ho visto Lo hai detto? No, niente, neanche che sia una cosa di racconto Cazzo Rit Non aggiungo un gommi su eppi, trago Da, fra, smirate Invece no Eh, e te? Da cosa me lo dici? Ah, ma te hai preso pure il Thompson E' fra l'altro? Cosa c'è? Ah, è fra l'altro Ah, è fra l'altro Che voglio sentare 3 top Ora voglio provare una cosa che ho visto prima in un video Di uno che è veramente forte Non come sempre pro player E chi è? Ah, è lì questo Ma facciamo parte a fare un 90 Boh, fra, non mi edita Beh, scusami, non mi edita le cose altrui Non mi hanno fatto Non mi hanno fatto Mi hanno fatto Pozzare E non mi hanno fatto Ma non mi hanno fatto E più Non mi hai fatto Un pozzare E poi Che sicuro quel giusto di merda dopo che mi distrugge il post sono cagato grazie c'è grazie cosa era il tuo stavolta no nel senso che mi hai fatto cadere dai stai scherzando che falle cioè io sono pure mettendo il coso in questo cioè mi hai visto fermo ma perchè stavo finendo lì stavo il secondo muore e poi mi si stava spegnendo perchè ti muore se lo spegnendo perchè ti muore se lo spegnendo perchè ti muore se lo spegnendo tu a volte mi servono vieni qua non 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 nemmeno non si sta spegnendo di nuovo non ho preso a modo non non riesco a giocare la fintura è una cosa bruttissima 20 cosa? ho fatto 29 in testa eh certo franca domanda è poco da pretendere io t'ho fatto solamente 136 va bene vediamo quanto ti faccio eh 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 tutti i villain bot oh bar bello franno mi vinta giù mamma mia quanto oggi andare in live basta che culo farà forse ti ho fatto 200 eh non lo so eh? forse ti ho fatto 200 non lo so non mi ricordo non credo che puoi farlo ah poi farà ho visto un 2 eh? non ho visto un 2 ah 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 ragazzi giuro in live non sono per niente clean perché che devo dire che non sono clean semmo PS4 player beh a forse PS4 player no però zimmi scuola come fatto? scuola come fatto? 4 siamo meno di tre ah no franno no vercam tu no il mio canale non sta muorendo sta muorendo mi ha fatto tu il mio canale non sta muorendo graffi scherzi i loro no 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 è un'impressione solamente 1500 siti faccio un secondo 4 specie grazie ragazzi che mi supporto ogni giorno mi avete piaci soddisfatto di quello che ho fatto vi ringrazio molto io devi fare qualche altra spanna in cucina comunque si fra io però non vi direi vabbè si fra ma io che torno a fare in cucina con spanna se non ti spette no fra non mi edita vedi vedi se mi edita va là cioè era fatto ti avrei chillato dai che palle tre ore per risparare mi sono stati a guardare mezz'ora no questa cosa la devono togliere vedi bravo forse c'è ormai che non ho fatto i miei automatici non ha senso farlo non ha senso fare dopo bomba quindi parco di ho toglierlo pure vada ma un'altra scala la facciamo se ne riesci una un'altra scala eh fra ma lo sai che io ho i 90 speciali oddio non mi edita ma scherzi vabbè grazie a si come stai se ne era che merda no adesso è bloccato 3 ore per essere una delle pompe a sparare No fra Se avessi potuto sparare un altro colpo te Probabilmente ho risposto a HS fra Cagolo so, ma ti ho fatto solo 71 Ma sto scherzando Dov'è? Dai, non ce la faccio più Mamma mia, giocare in life, che schifo Vabbè, mi evita così, ma addio Non ci lascio più a giocare in life Cioè, è una cosa brutissima Cos'è che tu devo dire avere il premio live? Ma infatti, fra no, vado su Twitch a fare Così non ho problemi Perché su Twitch si può fare qualità minore Che di tutti YouTube faccio solamente i video e Twitch le live Perché con i tuoi problemi è con Twitch, no? Perché Twitch ti fa fare qualità minore Che è un intermedio fra la 480 e la 720 Si vede ancora bene Non ovviamente una definizione altissima, ma comunque giocabile Niente, ho smirato l'ultimo colpo perché ho finito il doppio di un mouse Perché se stavo smirando oggi Non sono state da un po' di me Ah, Luca, se vuoi dammle, così vedo se lo fai Non esiste Fra, se me le dai adesso te lo posso già vedere in live Le faccio, cioè, te lo posso già vedere in live Mi scrivi in private Si vedrà solamente di me, ma di me la fine non è che ti serve molto Che altro passo, non me lo faccio vedere Ma peggio non ho capito No, ragazzi, mi devi dare le sue credenziali Delle credenziali di un account per vedere se è una truffa o no Per vedere Se è una truffa o no Se anzi, se è una truffa o no Se l'hanno già dato quelle credenziali di truffando o no Metti 4 No, io c'è T'ho fatto 29 Tu mi spazio, tra Porco Dio Scusa, ti boxi un attimo? Si, Ale Stavo provando a fare una cosa Boxati, voglio vedere Ah, d'accordo Allora Stai fermo Porco Dio Oh, sei imperato in autistico Cosa puoi fare? Cazzo ha fatto Cazzo ha fatto Fermo Ripara il muro Ok, no Ammassami da Ammassami da Mamma mia, fra Cioè Cioè, il non è che hai sbagliato la sensibilità No, sto facendo destra e sinistra Ah, ok, no Ok Ma non è che ho boccato, non so Comunque ragazzi, penso di togliere la life perché veramente c'è un blag Cioè, non mi va bene fin di blaggare Honest Eh, non è cascato Aspetta, però l'ho malicidato Guarda, Fran, mi fa proprio quel ritardo Anche se tu lo sento FBS, ma raga, vi tiro La sensazione è diversa, è breve, no 92 Guarda, questo è uno scherzo, guarda Ma stai scherzando, tra? Ho fatto 92, 13, 16 Eh, con L1, magari Poi, quello è più di me in sicura Mi sembra normale quello che mi hai fatto, tra Mi sembra normale quello che mi hai fatto, daia Cosa? Fra, mi hai fatto 150, penso, mentre cadeva Comunque non ho capito perché è lì così, di bertha, della renegade Passa che io voglio, di bertha Giusto posto Ma dai, sei morto Vabbè, non è che tu sei messo molto meglio Eh, lo so Alex, dovrei mettere 244 Eh, la panna fate Che raga, comunque vi giuro Il live è una cosa brutta Che caso, io sbaglio Perché io metto le grafiche per la live Mi toglie un voto di FBS E infatti, voi non vi approdete Raga, me lo sento Cioè Ad esempio, ragazzi Vedete, i miei 90 non sono clean Mi sto facendo molto clean Ma di solito li faccio clean Perché Lo sento Mi sembra di invitare da PS Poi Poi sono io quello con uno di Pingo, ok Ah, stai scherzata Tu metto, tu metto Fra, non mi vedi Ti vedi Vabbè Ragazzi, ho quella live Bella Bella